Imparare un nuovo software può essere difficile, ma ci sono dei passi che possiamo fare per renderlo più facile. Quindi se state esplorando Fusion 360, ma provenite da un altro strumento di progettazione, voglio mostrarvi qualcosa che vi aiuterà. Se accedete alle preferenze, un'opzione importante che dovreste conoscere è quella dei comandi di scelta rapida predefiniti per panoramica, zoom e orbita. È possibile ridurre al minimo la curva di apprendimento utilizzando i comandi di panoramica, zoom e orbita del software precedente, come SOLIDWORK o Inventor, anziché le impostazioni predefinite di Fusion 360. Detto questo, se si sceglie però di imparare i comandi predefiniti di Fusion 360, posso garantire che diventeranno una seconda natura in pochissimo tempo. Vi mostro allora come eseguire panoramiche, zoom e orbite in Fusion 360. Ruotando la rotella del mouse, si avvicina o si allontana il modello. Se trovate che la direzione sia opposta a quella che ci si aspetta, si può tornare nelle preferenze ed invertire la direzione dello zoom. Utilizzando questo metodo, quando ci si avvicina, l'ingrandimento sarà centrato dove è puntato il cursore del mouse, per cui, se si vuole focalizzare una zona in particolare, la si punta con il mouse e poi si effettua lo zoom. Per l'orbita, si tiene premuto il tasto maiuscolo sulla tastiera e la rotella del mouse e si sposta il mouse facendo ruotare il modello. Si può scegliere l'orbita libera o vincolata sia nella barra di navigazione che nelle preferenze. Per la panoramica, non bisogna fare altro che tenere premuta la rotella del mouse e spostarlo per far scorrere il modello, mantenendo lo stesso orientamento. Infine, se per qualche motivo il modello si trova molto lontano, addirittura fuori dalla finestra grafica, basta fare un doppio clic sulla rotella del mouse per riportarlo al centro. Pronti ad iniziare? Pronti ad iniziare?